Questa sera abbiamo avuto un incontro con gli operatori della riva destra di via Porto ai quali abbiamo comunicato quelle che sono le dinamiche che si sono innescate successivamente all'aggiudicazione della gara alla ditta operazione che aveva vinto appunto questa procedura. Purtroppo successivamente nel mese di maggio del 2022 la seconda ditta classificata nella procedura di gara ha promosso un ricorso al TAR, un ricorso amministrativo manifestando delle doglianze sulla procedura. Il TAR aveva fissato l'udienza per il 5 di ottobre, si è tenuto all'udienza e dopo quasi due mesi, i primi di dicembre 2022, ha emesso un'ordinanza rinviando ad un CTU nominato nell'ambito del Dipartimento della Federico II della Facoltà di Ingegneria per valutare quella che era stata l'operato della commissione di aggiudicazione. Per cui i lavori che erano fissati come inizio nell'autunno 2022 stanno slittando in seguito all'instaurazione di questo giudizio che ci sta rubando del tempo. Nei prossimi mesi, nel mese di febbraio, ci sarà l'inizio del lavoro di valutazione dei documenti da parte del CTU e da quel momento in poi avremo un po' più le idee chiare in relazione a quella che sarà la tempistica dell'inizio dei lavori. Tutto questo l'abbiamo rappresentato in maniera compiuta agli operatori per tenerli aggiornati in maniera trasparente di quelle che sono le vicende che coinvolgono questo tipo di intervento. Purtroppo ai noi, questo l'abbiamo detto, spesso negli interventi pubblici, nei lavori pubblici si finiscono per innescare questi contenziosi che bisogna affrontare con equilibrio e giudizio per poi riuscire a raggiungere l'obiettivo che è quello di intervenire nelle varie zone e nei vari lavori pubblici che portiamo avanti cercando di fare al meglio. Potrebbe quindi saltare tutto il 2023 o comunque bisognerà arrivare a superare l'estate del 2003 per la posa della prima pietra anche perché i lavori che cosa riguarderanno? Saranno dei lavori strutturali importanti, di grande restyling, quindi non opere minori? No, è un intervento importante per il quale abbiamo conseguito un finanziamento di 6 milioni di euro, parliamo di lavori per più di 4 milioni di euro che consisteranno nel rifacimento di tutti i sottoservizi, nella realizzazione di un sistema che dovrà combattere il fenomeno oramai annuso dell'acqua alta, riprendendo un po' quello che è il disegno architettonico della zona che è una delle zone maggiormente frequentate sulla nostra isola per quando riguarda la movida.